Questa potrebbe essere la strada che ha percorso chi ha abbandonato gli pneumatici, come potete vedere una strada sterrata e poi alla mia destra e alla sinistra i campi coltivati e poi siamo nella zona del parco Pineta, un territorio protetto. Ad accorgersi dell'ingombrante mucchio di gomme abbandonate e in alcun modo nascoste nei pressi di Lurago Marinone, un cittadino che ha quindi fotografato i rifiuti. Sono stati invece i carabinieri del nucleo forestale a contattare la direzione del parco Pineta, che si estende su una superficie di quasi 5.000 ettari. Una montagna di gomme alta come una persona, alcune anche molto grandi e in questo ammasso di pneumatici se ne potrebbero contare diverse centinaia. Le gomme sono infatti incastrate una dentro l'altra, sono di diverse tipologie, alcune probabilmente sportive, altre da corsa, altre ancora chiodate. E in questo ammasso di pneumatici si possono anche vedere delle etichette, delle etichette gialle che rimandano a veicoli svizzeri del canton Ticino. È proprio dai riferimenti ritrovati, ha spiegato il sindaco di Lurago Marinone, Luigi Berlusconi, che è partita l'indagine della polizia locale. Lo stesso sindaco ha spiegato che potrebbe essere il comune a occuparsi dello smaltimento delle gomme, considerate rifiuti speciali.